I nostri martedì notte da passare insieme c'è chi dice che è una questione di respirazione chi è una questione di musica UBJ secondo te cos'è? La console per questa notte UBJ Universo Beta Music e il capitano Stefano Brrrr Noi siamo pronti Si possono battere le mani, è festa grande Chetti, Irene, Lara, Denise Se fosse l'ultima luna sarebbe luna piena E' l'ultima luna Vai vederti ballare a piedi scalzi Theo La sprazione Le daniele Per la sprazione La sprazione E' l'ultima luna E' luna La sprazione E' luna La sprazione La sprazione E' luna Anche Per la sprazione La sprazione Simona Sara Silvia Sangrina Da principio era tutto buio Poi arrivò Andrea Silvia e Luce Tecnicolor Ma la musica un DJ La musica un' Emotional sound 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 Emotional sound